La loro risposta, cioè io ripeto che durante i due e tre partiti, il Stato è proposto in questa situazione del Consiglio Comandale, c'ha tutti i ritmi della realità e della legittimità. Detto questo, ogni certa parte del Consigliere Fuccio c'è la proposta di Dio, c'è la proposta di Dio, c'è una richiesta di Dio, che bisogna mettere a votazione, giusto? Praticamente abbiamo fatto la proposta di Dio, allora prende la proposta di Dio, la proposta di Dio, la proposta di Dio, la proposta di Dio e la proposta di Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.